Beh, sono partite soprattutto per una squadra che arriva da una sconfitta non bella perché vuole ricominciare a far punti e ripartire. È normale che il primo tempo sullo 0 a 0 ti metta un po' di timore, ma penso che noi oggi pericoli praticamente ne abbiamo corsi su Galano, forse su Bogino l'ultima palla sopra così, però l'abbiamo gestita bene, siamo stati bravi sull'1-2 nel secondo tempo ad andare sul doppio vantaggio. Penso che oggi la nostra vittoria sia meritata. Non era scontato ripartire dopo una sconfitta, ci tenevamo a farlo e ci siamo riusciti. Italiano, non ci venga a dire che il Pescara non le porta bene all'andata con la vittoria dell'Adriatico, lei salvò la panchina perché era a un passo dall'esonero. Oggi con la vittoria con il Delfino siete riusciti a riscattare la sconfitta di Benevento. È vero? È così? Ma allora, del passato lasciamo perdere, faccio solo una battuta, lì i ragazzi, forse vi ricordate anche, i ragazzi sono stati straordinari nel secondo tempo e da lì per noi è partita... Non fu una vittoria del tutto meritata però? No, fu una vittoria che nel secondo tempo ci ha visti tirar fuori l'orgoglio e portarla a casa come tante partite di questo campionato. Non è che tutte le volte si può dominare, creare 30 palle goal, ci sta anche qualche partita che la porti a casa anche soffrendo. Lì noi dovevamo vincere a tutti i costi, l'abbiamo fatto e da lì è nato un nuovo Spezia, fatto di tanti risultati consecutivi, di giocatori che crescono di settimana in settimana e adesso siamo qui dopo un intero girone ad avere 44 punti che sono per noi un bottino eccezionale. Siamo in una zona di classifica che ci piace, che vogliamo mantenere e dobbiamo fare di tutto per cercare di avere questi livelli di rendimento fino alla fine. L'ultima da parte mia dal punto di vista tattico, premesso che la vittoria è meritata per quanto visto nell'arco dei 90 minuti. Dove è stato bravo il Pescara nel primo tempo a non permettervi di arrivare con facilità alla conclusione? Perché voi siete arrivati dalle parti di Fiorillo per un paio di palleggi sbagliati del Pescara o per alcune uscite sbagliate del Biancazzurro? Nel primo tempo penso che noi, ed è un fondamentale che dobbiamo migliorare sulle pallene attive perché abbiamo battuto tanti angoli e abbiamo battuto tante punizioni laterali e lì dobbiamo migliorare perché come ho detto prima le partite si possono sbloccare anche su una pallena attiva. Io penso che merito a Pescara perché Pescara quando inizia a palleggiare, quando inizia a trovare gente tra le linee, quando arriva a palla nei piedi a Galano, a Palmiero, a Clemenza, è tutta gente che non te la fa vedere e non ti permette di giocare e ragionare. Loro sono stati bravi nel primo tempo in alcune situazioni a fare questo, nel secondo l'hanno fatto un po' meno, siamo cresciuti tanto noi e penso che lì l'abbiamo vinta. Italiano, due domande flash per chiudere. La prima, se dovesse, se potesse dare un consiglio alle Grottaglie per la gara di domenica con il Benevento, visto che voi avete giocato con i giallorossi qualche giorno fa, che consiglio darebbe? Poi le chiedo un voto sull'arbitro di questa sera. Io posso dire a Nicola quello che ho detto ai miei ragazzi, di andare lì e giocare la partita. Loro sono uno squadrone, ma andare lì spenserati, giocare senza paura, perché solo così puoi metterli in difficoltà. Sull'arbitro non so cosa dire, oggi penso che sia stato... Quattro, no no, è un arbitraggio che non ha sicuramente influito sul risultato, ma quattro giocatori del Pescara ammoniti ai primi quattro interventi. Beh, guardate, io ad esempio domenica dopo la partita... Le faccio per questo la domanda, per quello che è successo a Benevento. No, dopo la partita col Benevento io non ho detto una parola. Adesso sono anche a tre ammunizioni e mi sono promesso che non devo più protestare, non devo più dire una parola, non devo più giudicare niente, perché se dovesse arrivare a cinque verrei squalificato e la mia squadra senza l'allenatore poi non può circolare. Sinceramente, sinceramente, oggi non mi sono preoccupato di quello che poteva essere una direzione arbitrale, veramente, non so che dire.